Come va? Siamo quello che mangiamo. Questa frase di saggezza popolare è proprio vera. Ad esempio, se continuiamo a mangiare tutta quella farina 00 e prima o poi faremo morire di infarto tutti i nutrizionisti e poi a chi daremo tutti i nostri soldi. Se cominciamo a mangiare gli insetti, come ci stanno praticamente dicendo tutti, mangiate tutto, verrà introdotto la chipster con gli insetti, buona mano, proteine, fibre, forse si avvererà la profezia kafkiana e ci sveglieremo insetti. Che insetto vorreste essere? Dici, domani mi sveglio e sono insetto. Sai queste domande, meglio insetti o lettori di mentana? Meglio insetti. Se continuiamo a bere tutti quei vini del supermercato, forse finalmente riusciremo a dimenticare di averli bevuti, ma ne dovremo bere proprio tanti, tanti. Se continuiamo a mangiare tutta questa soia, dappertutto la troviamo, no? Prima o poi diventeremo anche noi delle creature transgeniche, ci cresceranno due nasi, anzi no, due cervelli, vi piacerebbe? A me no, sai che casino dei pensieri là dentro? Ci cresceranno quattro apparati riproduttivi, di cui però ne funziona a malapena uno, praticamente come adesso ma con più peso specifico. Basta soia. Se continuiamo a mangiare biologico diventeremo poverissimi, se continuiamo a mangiare fuori al ristorante anche diventeremo poverissimi, e diventeranno poverissimi anche i ristoratori, a fuori di scaldare la sala del ristorante, diventeremo poverissimi anche se continuiamo a mangiare tutti questi avocado, poverissimi ma con una pelle. Se continuiamo a mangiare questa quantità di funghi quando arriva la stagione, prima o poi troveremo quello giusto. Se continuiamo a farci piacere lo zenzero, che cos'altro riusciranno a farci ingoiare? Se continuiamo a mangiare aglio, attenzione, perché potremmo arrivare ad avere veramente zero amici, ma anche se esprimiamo la nostra opinione potremmo arrivare ad avere zero amici, quindi tanto vale dire la nostra opinione mangiando aglio così, che è anche un antibiotico naturale, tra l'altro. L'aglio. Se continuiamo a bere Coca-Cola, saremo pieni, pieni, pieni di lattine con i nostri nomi. E' un bel e le lattine. E' pieni di diabete. Se continuiamo a mangiare cibo cinese, rischiamo di diventare prima o poi dei cattivi europei. Ma anche se beviamo il vodka tonic. Se continuiamo a mangiare come gli americani, diventeremo americani, ma senza carta verde. Se continuiamo a mangiare ciò che cucinano le nostre nonne, nessuno potrà farci del male, tranne loro. Se continuiamo a mangiare merda, diventeremo delle...